Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Questa è una puntata dedicata a scrivere una canzone passo passo. Ho deciso di fare tre puntate da dedicare a come si scrive una canzone perché è un argomento un po' complesso e quindi per non fare un video di mezz'ora faremo tre video un po' più brevi, però vi spiegherò bene l'armonia che potete utilizzare, la melodia legata all'armonia e poi come trattare il testo a favore della melodia e dell'armonia. Quindi questa è la prima puntata sull'armonia. Vediamo quali sono gli accordi che noi possiamo utilizzare se siamo in una tonalità ad esempio di Do maggiore. Vi faccio l'esempio in Do maggiore perché è più semplice capire le distanze fra gli accordi e poi vi farò vedere un modo per scegliere anche altre tonalità con cui scrivere una canzone. Sappiamo bene che dove ci sono i due tasti neri, qui a sinistra c'è il Do e quindi la scala di Do maggiore già abbiamo visto in altri video che è fatta così Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Quindi se siamo in tonalità di Do maggiore, dove l'accordo di Do maggiore è Do, Mi, Sol, queste tre note suonate insieme, questo ci dà la tonalità della canzone che stiamo magari componendo. Tutti gli altri accordi che noi possiamo utilizzare sono legati a questa scala di tasti bianchi. Quindi considerando che noi prendiamo un accordo, una nota Si e una nota No, una nota Si e una nota No, una nota Si e una nota No, quindi se noi facciamo questo sistema per tutte le note ci troviamo accanto che prendiamo il Re, in questo modo Re, Fa, La e questo sarà il Re minore. Allo stesso modo prendiamo accanto c'è il Mi e quindi suoneremo Mi, Sol, Si e avremo Mi minore. Questo sarà ancora un accordo che sta bene in questa tonalità. E così procedendo con il Fa maggiore, Sol maggiore, La minore sarà. Infine c'è l'ultimo accordo che è un accordo che si dice diminuito. Perché diminuito? Perché è un accordo minore, quindi Si, Re e una terza minore, e in più la quinta di questo accordo è anch'essa minore, diciamo si dice diminuita. Perché una quinta, la quinta dal Si e Fa diesi si chiama quinta giusta, mentre se scende la quinta giusta diventa diminuita. Quindi questo accordo si chiamerà Si, Dim o diminuito. Sappiamo bene che una canzone può avere un accordo, due accordi, quattro accordi, decine di accordi. Noi vediamo una canzone tipo, magari mettiamo quattro accordi, partendo abbiamo detto dal Do, perché siamo in questa tonalità, quindi il primo accordo decidiamo di essere proprio Do, che sia proprio Do. Poi io metterei, facciamo degli accordi a caso, un Sol, che è la quinta di Do. Do, Re, Mi, Fa, Sol, Sol maggiore. Questo sarà il nostro secondo accordo. Il terzo facciamo che sia Re minore. E il quarto accordo, La minore. Quindi facciamo Do, Sol, Re, La. Questo sarà il nostro giro armonico e possiamo decidere di fare, per esempio, due battute per ogni accordo. E così abbiamo già una base per costruirci sopra una canzone, oppure quattro per ogni accordo. Ovviamente voi, con tutti gli accordi che abbiamo detto, potete provare a scambiarli, mettere prima Do, poi Sol, poi Fa. E quando scegliete e trovate quello che più vi piace, la velocità anche che più vi piace, può essere anche più veloce, Iniziate di là, poi, a scegliere una melodia per questi accordi. Allora, interroghiamo, interroghiamo... Tu, vieni. Spiegami. Sto scherzando. Allora, ho fatto uno schema, perché, ovviamente, se siamo in una tonalità di Do maggiore, le accordi saranno questi. Do maggiore, Re minore, Mi minore, Fa e Sol saranno ancora maggiori, La minore e sì, diminuito, come abbiamo già visto sulla tastiera del pianoforte. Mentre se noi vogliamo cambiare tonalità, o comunque scrivere una canzone in una tonalità diversa, gli accordi che possiamo utilizzare sono questi che vediamo scritti. Io, ovviamente, ho utilizzato soltanto le note, le sette note principali, senza partire dai diesis, perché lì il discorso non è proprio complicato, però si va in un discorso più approfondito. Quindi, se noi vogliamo fare una canzone, ad esempio, in Sol maggiore, sappiamo che nella scala di Sol c'è il Fa diesis, quindi sappiamo che il Fa diesis sarà diminuito, ad esempio, perché si trova alla fine, come settimo grado. Questi sono i gradi, primo, secondo, terzo, quarto, fino al settimo, e poi, ovviamente, l'ottavo, si ripete il primo grado. Facciamo un altro esempio, La maggiore. Facciamo una canzone in La maggiore. Se la canzone che abbiamo visto era Do, Sol, Re, La, in La maggiore sarà primo grado La, quinto grado Mi, secondo grado Si minore, e sesso grado Fa diesis minore. Questo è quello che potete fare per muovervi sulle altre tonalità. Studiatevi questo prospetto e vedrete che piano piano riuscirete a capire bene come muovervi in tutte le tonalità. Bene, ora sta a voi creare delle armonie, scegliete le accordi che più vi piacciono, metteteli insieme, fate delle prove, e poi nella prossima puntata vedremo come legare una melodia a queste armonie. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.